Varato dal Consiglio Comunale di Francavilla Fontana il nuovo regolamento edilizio che disciplina in pratica le attività di soggetti pubblici e privati in materia di interventi urbanistici ed edilizi. Al suo interno sono contenute disposizioni per la tutela dei valori ambientali architettonici ma anche per il decoro, la qualità dell'ambiente, l'igiene e la sicurezza. L'ultimo atto prima del voto in Consiglio è stato il parziale accoglimento da parte della Commissione Urbanistica delle osservazioni presentate dai professionisti del settore in materia di recensione dei fondi rustici superfici accessorie costituite dai vari depositi pergolati, qualità architettonica ma anche inserimento paesaggistico delle costruzioni. Nella stessura si è tenuto conto delle caratteristiche edilizie presenti sul territorio. L'adozione del regolamento è un passaggio cruciale anche in ottica Puggo in quanto è conforme con le indicazioni in materia contenute dal piano urbanistico. Si tratta di uno strumento tecnico che definisce i parametri edilizi ma anche i criteri per la loro misurazione come ad esempio distanza tra i fabbricati, altezza degli stessi, superficie utili, dimensione minima dell'unità immobiliare e tanto altro ancora. Soddisfatti per il risultato raggiunto il sindaco Antonello Denuzio, il vice sindaco Domenico Attanasi e il presidente della Commissione Urbanistica Nicola Lonoccia. Il regolamento edilizio è il frutto di un accurato lavoro cominciato nella scorsa consigliatura.